I sensi ci ingannano? I nostri occhi sono vittime di illusioni. Ad esempio, due aree affiancate ci appaiono di due grigi differenti, ma se introduciamo uno schermo per separarle risultano della stessa sfumatura. Due segmenti ci appaiono di lunghezze diverse, ma se le misuriamo hanno la stessa lunghezza. C'è qui qualcosa che si sta muovendo? È solo un'immagine fissa. Gli artisti del Rinascimento incantavano il pubblico con le illusioni ottiche. Guardate il quadro di Holbein. C'è una strana figura in basso che si trasforma se vi spostate sulla destra del dipinto. Questo è il fenomeno dell'anamorfosi. Figure con una forte distorsione che acquistano la loro vera forma solo se guardate da un particolare punto di vista. Oggi Julian Beaver è uno dei maestri dell'anamorfosi. Ora vi invitiamo a godere l'effetto baratro. Qui il giapponese Miwa Miwa si è ispirato a vertigo di Hitchcock. Soffrite di vertigini? La sensazione passa se rivolgete lo sguardo altrove. La bambina sulla destra è più piccola del ragazzo sulla sinistra, ma la vedete molto più grande di lui. Ames ha creato questa stanza nel 1940. Ha forma di trapezio, ma sembra rettangolare e per questo ci inganniamo sulla grandezza delle persone che la abitano. Dal catalogo delle illusioni ottiche non possono mancare le illusioni di movimento della Hope Art. Ecco un'opera dell'ungherese Victor Vasarelli e una dell'inglese Bridget Riley. Qualcuno dirà che le nostre esperienze pullulano di illusioni. Vediamo binari del treno convergere all'orizzonte, ma sono paralleli. Dal duomo macchine e persone sembrano piccolissime. Come possiamo sopravvivere se i sensi ci ingannano sistematicamente? Tranquilli, siamo perfettamente in controllo dell'ambiente in cui viviamo. Il nostro cervello usa l'indizio della convergenza e vediamo i binari come paralleli. Usa indizi di profondità e vediamo le persone come lontane. Il modo in cui il mondo ci appare e quello che ne sappiamo vivono in armonia quasi perfetta. Gli artisti però traggono in inganno il nostro povero cervello e noi siamo prede per i loro esperimenti astuti.